Eccomi qua con i risultati di Crown Jewel 2021 Prima di iniziare innanzitutto vorrei ricordare che se siete nuovi al canale e se siete fan della WWE Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per rimanere aggiornati sul mio canale E se volete altri video che faccio sul wrestling iscrivetevi al canale e fare i pronostici eccetera 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 E' molto facile Eccoci qua con Crown Jewel 2021 Pay per view arabo che devo dire? Bello No ci sta è stato un bel pay per view secondo me Anzi bello bello forse uno dei miei forse Ah ma è stato un pay per view decente arabo ok Che almeno non ci ha fatto bestemmiare non ci ha riservato sorprese Non gradite Va bene così Cominciamo subito Come sempre parlo sempre prima dei match femminili però voglio passare al kick off maschile C'è solo un match C'è solo un match Usos contro Cedric Alexander e Shelton Benry Non era stato Non è stato ufficializzato niente non è stato proprio detto nulla di questo match però vabbè E' un kick off Qui ha detto vabbè vincono gli Usos e hanno vinto gli Usos Bah due contro due normale Sì ok Cedric ha scelto e non combattuto bene però gli Usos hanno dominato e quindi giustamente la vittoria a loro Quindi gli Usos vincono e difendono i titoli di colpi di SmackDown Ora passiamo ai match femminili Passiamo a quello che Zelina Vega contro Doudrop Comunque i match su tutti i stati di sufficienza però qualcuno non è che tanto meglio C'è Zelina Vega e Doudrop Doudrop vabbè come è A vincere Zelina Vega con un roll up Io pronuncio l'ho detto Zelina Vega e l'ho azzeccato L'ho azzeccato Zelina Vega Magna così Doudrop Che poi tra l'altro Nei match femminili tutte le ragazze sono state C'erco hanno combattuto A maniche lunghe e con una maglietta insomma Per Vabbè è una scelta Per il vabbè Non l'ho capito per che cosa Mi sa per rispetto Vabbè Sì sì per rispetto delle donne Che in Arabia Vabbè poi ci sono anche quelle ragazze Vabbè E non direi che sto a spiegare Comunque Ma abbastanza buona sull'insufficienza Anche se Mesh non è che tanto mi interessava Comunque Buono Devo dire Poi l'altro match femminile È tra Becky Lynch Che ha sconfitto Bianca Belair e Sasha Banks E ha mantenuto il titolo di coppia Ha mantenuto il titolo femminile di SmackDown Tra l'altro Zelina Vega È diventata regina del ring Regina Regina della Colora Non dico detto altro Per quanto riguarda questo match Allora Io ho detto Becky Lynch E Bianca Belair Ho azzeccato Bianca Belair Bianca Belair Becky Lynch Becky Lynch Bianca Belair Ho beccato Ho azzeccato Becky Lynch Che ha vinto Sì anche se Bianca Belair La vedo un po' più determinante Con la Kay Il match è stato Tra l'altro Sui sufficienza Devo dire Mi è piaciuto Mi è piaciuto Anzi è stato fantastico il match È un fantastico Bello Bello Veramente bello Mi è piaciuto Hanno fatto Una bella figura Alle tre sfidanti Stiamo quasi per vincere Bianca Belair Che io dì Sulla moglie La moglie Di Seth Rollins Becky Lynch Che tra l'altro È l'attuale campionessa Vabbè È l'attuale campionessa Sasha Banks La butta fuori Per dire La vittoria assicurata La vittoria assicurata Attenzione Becky Lynch Roll up 1, 2, 3 E va a guadagnarsi La vittoria E difende il titolo Dalle Dagli assalti Di Bianca Belair E della boss Complimenti a Becky Lynch Poi passiamo ora I match maschili Passiamo a quello Vabbè Forse non tanto Meno interessante Mensor contro Mustafa Lì Buono buono Anche se il match Non è che tanto Mi interessava Ho azzeccato Ho azzeccato La vittoria Ho azzeccato Il pronostico qua Ho detto Vince Vince Mensor Contro Mustafa Lì Ha vinto Mensor Poi dall'altro Poi un simbolo Della rabbia E ok Chi si sta comunque Poi dall'altro Vabbè A fine match Mustafa Lì attacca Il suo ex amico Che tra l'altro C'è stato un amico Solano per Solo un mese Spregato Vabbè Un po' Chi se ne fregava Poi arriva Questo campione Tarek Amdi Tarek Amdi Sinceramente Non so che cosa C'è il campione Olimpico C'è un altro Campione Olimpico Di karate Non so Il campione Olimpico Quindi ha vinto Le Olimpiadi Io non è che tanto E ho seguito Le Olimpiadi Pro Oh Se ci faccio Anche caso Non è la prima volta Che vediamo Un campione Olimpico Ne ho visti Tanti di campioni Anche quello Draftato Misarrose Smackdown Mi ricordo Che è arrivato Ha aiutato Ha salvato Mansor Da Mustafa Ali Che l'ha steso E Vabbè Mansor Si rialza E Il pubblico Applaude Sia Mansor Che Tarek Amdi Poi Passiamo A Yark Ebro Bel match Tra Yark Ebro E J Styles E Omos Altro bellissima L'entrata di Veramente Mi è piaciuta L'entrata di Matt Riddle L'entrata di Matt Riddle Col cammello Il dama L'iccammello E molto No 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 Non cato Poi una rivincita Devo essere Devo essere anche sincero Un po' Mi sono scocciato Di questa storia Cioè Non che sia brutta Per carità Però Andrà avanti per molto Match Un po' fotocopia Di quello di SummerSlam A vincere sono Vabbè Yark Ebro Che difendono i titoli Di coppie di Raw Randy Orton Matt Riddle Dopo che Randy Orton Ha fatto L'archeo Al volo Al fenomenale E J Styles Che tra l'altro E J Styles È il punto debole L'anello debole Del team Styles E Omos Ecco Sono anche abbastanza Ma era Cioè Randy Orton E Matt Riddle Se è una roba Stai soltanto Sui J Styles Poi Con Omos Ehm Sarà l'uomo legale Qui Siamo quasi 50.000 Avresti Per battere Omos È veramente Vabbè Comunque Sono riuscito a battere Comunque Sono riuscito a difendere i titoli Battendo E J Styles Omos Schierando I primi Ora passiamo Agli altri match Passiamo a quello Che mi ha veramente Colpito Cyber Woods Che sconfiggi Un match Veramente Che mi è piaciuto Che ha battuto Finn Balor Nella finale Il King of the Ring Ma veramente Il match Mi è proprio piaciuto Cioè Io dovevo per scontare Vabbè Vittorio Per Finn Balor Ok Però mi sarei aspettato Un match Match molto equilibrio Sono un match equilibratissimo Cioè I due hanno fatto Veramente Una bella figura Il L'ex Vabbè Campione di NXT E Xavier Woods Veramente hanno fatto Un bel lavoro E sono felice Per Xavier Woods Sono proprio felice Per Xavier Woods No Veramente Vittorio Meritata Meritata Dopo che Ehm Era sopravvisto Vabbè E resistito E resistito A un coup de grace Poi vabbè Fa la Fa una mossa Poi fa la sua mossa Dalla 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 terza corda E poi fa con la mossa Dinamica La stessa mossa Che tiene Shane McMahon E riesce a portare a casa La vittoria E diventa Nuovo Re del Ring King Woods Ragazzi King Woods No veramente complimenti A lui Vabbè Dopo Dopo la vittoria Che poteva mai fare Va Sul trono E prende la corona E tutto Tutto Meritato Complimenti A Xavier Woods Poi Parlando di Xavier Woods Passiamo al match Dell'amico Di Xavier Woods Biggie Che ha difeso Che ha difeso Il titolo Contro Contro Edge Eh sì Contro Edge Contro Drew McIntyre Un match Che Mamma mia Anche questo Questo Mi ha colpito Veramente Mi ha colpito Che poi Non è che poi Volevo dire Foda che Foda che Foda che Foda che Biggie Ha resistito A due A due Claymore kick Però Alla fine In un match Molto Combattuto E equilibrato Speravo tantissimo La vittoria Di Biggie E ho azzeccato La vittoria Di Biggie Che difende Il titolo Di coppia Il titolo Mondiale Della WWE Ah tra l'altro Adesso non avevo parlato Di Xavier Woods E Finn Balor Non ho azzeccato Il pronostico Perché dissi Finn Balor Che vinceva Però alla fine Non ho azzeccato A Vintox Everwood L'avrei detto Come scommessa Però Vabbè Poi altre Non ho mancato nulla Ah Dei Arche Bro Io ho detto Vole vittorie Di Styles Homos Non ho detto Styles Homos Che vinceva Però alla fine Non ho vinto Peccato Primo pronostico Però Sono felice Quello stesso Che Però sono felice Per Randy Orton E Matt Riddle Poi Alla fine Vince Big E Che comunque È un match Combattutissimo Veramente Complimenti a lui E A fine match Drew McIntyre Beh Deluso Giustamente Per la sconfitta Però Comunque Non è che L'ha presa Andando male Che tipo Sbatteva Beh Deluso Per la sconfitta Però comunque Dai Ho fatto una bella figura Poi ha perso Contro Big E Che Che adesso È una lampa di lancio Per quest'anno Che comunque Ha fatto sì Una bella annata E Poi come Campione da lui Lo si vide Bene Almeno Per Non so Fino Fino Alla Royal Rumble Fino 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 a Prostarmenia Vediamo Cosa farà La federazione Per lui Comunque Però per Drew McIntyre Potrei pensare Io fossi Uno Della federazione Direi Perché non mettiamo Drew McIntyre Contro Roman Reigns In rivalità Questa è una cosa Che potrebbe Potrebbe essere Bella Cioè che potrebbe Potrebbe essere Ottima Ottima Anche per Vince McMahon Però Tutto non dipende Da noi Vabbè Comunque Vicky Dipende Il titolo Contro Drew McIntyre Match molto combattuto Passiamo poi Al Madonna Che match Edge Seth Rollin Serena Cell Match Non se non affronta L'Extreme Russo Perché Edge È rinforzato Ma cosa Cioè Raga Io vi giuro A questo Pay Per View Sapete che voto gli do Otto Otto Mi è davvero Piaciuto Cioè Non solo Per questo Ma Vabbè Per alcuni match Non è che Non mi sono piaciuto Però comunque Big Hit Mi sono piaciuto Otto Otto Un voto da Otto Ma il match è da 5 su 5 Cioè 5 stelle Edge Seth Rollins Veramente Mi è piaciuto Poi Cioè Stomp Spiar Stomp Spiar Stomp Spiar Poi la Spiar Bellissima Spiar Bellissima Che porta Edge Alla vittoria Felicissimo Per la superstar Vietata ai minori Che porta a casa La vittoria Ah ragazzi Sembravo di vedere Edge Dei vecchi tempi Vabbè A parte che l'avevo visto Anche A presto del migliore Dell'anno scorso E Però comunque Veramente Felicissimo Per la superstar Vietata ai minori Di 18 anni Vietata ai minori Vietata ai minori Felicissimo Per lui Ora passiamo Grazie a Dio Grazie a Dio Grazie a Dio Roman Reigns Vince contro Brock Lesnar Grazie a Dio Grazie a Dio Così non sopportiamo Tre mesi Tre quattro mesi Di pura noia Con Brock Lesnar Che difende la cintura Ogni morto di Christian Mamma mia Meno male Roman Reigns Comunque Merch Sufficiente Anche questo Ok si Finisce Cioè come dovrebbe Cioè come potrebbe finire Seconda Seconda vittoria consecutiva Per Roman Reigns Che vince Insomma Dio nei pay per view Un po' con l'aiuto A Extreme Rules Ha avuto L'aiuto Casuale Della terza corda Che è crollata E non si sa neanche Per il quale motivo Contro Damon Beller Adesso Contro Iuso Sì Forse questo aiuto Ci sta Ah poi Brock Lesnar Che esagerava Con le Con le L'F5 Roman Reigns Con le spear Alla F5 L'ultima F5 Stand Cioè vabbè Falla F5 Al triple shift Accompagnato dal Dall'ex manager Della bestia Paul Heyman Che stand Brock Lesnar Fa l'F5 Scaraventa Roman Reigns Butta Roman Reigns Addosso all'arbitro Che lo va a schienare Ma non c'è Nel conto di uno Nel conto di due Nel conto di tre Perché l'arbitro È a terra Poi Successivamente Spear Spear Ragazzi Sì Però prima C'era Prima Vabbè Paul Heyman Lancia la cintura La prende Brock Lesnar Che vorrebbe colpire Roman Reigns Che succede Arrivano gli Usos Che Doppio super kick Doppio super kick Che tra l'altro Poi se ne Se ne ritorna Poi Spear E Roman Reigns Schiena Brock Lesnar Con l'aiuto Determinante Dei Usos Va a vincere La cintura Va a vincere Il match E 1 2 3 E difende Ancora la cintura Universale E ancora una volta Roman Reigns Detiene Il titolo A distanza Di un mese Un anno E due mesi 14 mesi Che Roman Reigns Sapete Credo che Roman Reigns La cintura Potrebbe Perderla A Vrester Minia Cioè se non la perderà Non la perderà Mai più Poi capisco Che Roman Reigns Vabbè Ma noi ci siamo Scocciati Di Roman Reigns E ok Però Juma veramente Ma Non vi lamentate Di Brock Leser Che so 503 giorni Però Ho difeso La cintura Chissà quante volte Ma su di meno Rispetto A quelle Rispetto Alle difese Di Roman Reigns Ma andiamoci Chiari Dai Però Roman Reigns Meglio di Brock Leser Io non ce l'ho Contro Brock Leser Ma la federazione La federazione Che proprio Non so perché Fa difendere la cintura Brock Leser Ogni morto di Cristiano Cioè Non lo so Poi Roman Reigns Che poi Mi senta giusto Di farlo difendere il titolo Però che difende Che però Non difende una volta il titolo In pay per view Ci potrebbe stare Ci potrebbe stare Per carità E così E' andata così Meno male Meno male Che non ha perso Cioè E' andata così E' meno male Che non ha perso il titolo Contro Brock Leser Meno male La rivincita la farà Probabilmente La rivincita la farà Anche questo match Bellissimo Dai Mi è piaciuto Mio match Vabbè Edge Tutti quanti Ho sentito la sufficienza Un po' quello Trina Vega Da Outro Non è Non è che tanto Insomma Non interessava nessuno E niente Voto Vabbè Avete il trattato 8 su 10 Un pay per view Arabo Decente L'abbiamo avuto Ah Non ho parlato Di Goldberg E Bobby Lashley Peccato Questo non ho proprio Parlato Vabbè dai che però Ci sta che Goldberg Vince Ma comunque Non ha combattuto male Corbe come fa sempre Dai Si salva Si salva con questo No holds barred match Combattuto Sì Tra l'altro C'era anche l'intervento Di Cedric Alexander E Shelton Benjamin Che volevano aiutare L'ex amico Bobby Lashley Ma 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 Goldberg Non si fa prendere per fesso Poi va Da Bobby Lashley Lo va a finire Con una spiar Su Sulla rampa Gli fa la spiar Lo fa cadere D'altra parte Beh C'era un tavolo E 1 2 3 Goldberg Vince Il match Non titolato Miro mal Però Se posso dire una mia Che Goldberg Avresse vinto Un titolo così Potevamo accettarlo Però Vero Tutti quanti Sarebbero lamentati Ok Questo saremo proprio D'accordo Però Siccome il match È stato singolare Non diciamo niente Dai Ci sta Ci sta Ci sta Ci sta Che Goldberg vince Qui non ha azzeccato La vittoria di Goldberg Cioè La vittoria di Lashley Non ha azzeccato Perché Io dissi Lashley che vinceva Niente Ha vinto Goldberg Vabbè dai Ci sta Ci sta Ci sta Dando un match singolare Che Ma che cosa A me Mi importava questo match Perché insomma Vedendo la card I match sono tutti quanti interessanti Sono tutti quanti belli Forse a parte Dutrop E Daudrop E Zaini E Vega E Mensor E Mustafa Lì E Ti aspettavo molto di più Tra gli archiebro E E ci sta Insomma Però comunque dai E' stato un bellissimo Pay per view Tutti i match combattuti Hedder Contro Settroninze Fantastico Veramente Fantastico E Becky Lynch Contro Vabbè Il triple dead Match femminile E Poi Roma Renz Contro Brock Il mio Il mio Le mie Analisi Le mie opinioni Su Crown Jewel Le ho dette tutte Come vi è sembrato Questo pay per view Che voto Ghi date Il pay per view Io ho dato 8 Voi che cosa Ghi date E quale match Vi è piaciuto di più E quale match Non vi è piaciuto O quale Vi ha colpito di più Scrivetelo tranquillamente Nei commenti E io ovviamente Mi metterò il curicino Al canto al commento Finisce qua Adesso io devo andare Date il vostro giudizio A WWE Crown Jewel In pay per view Arabo Ma Ha saputo sorprenderci Non regalandoci Bestie Eh Delle gioie Che praticamente faranno Che Non so che faranno piovere il cielo Ma faranno anche Tu beh cadere Vabbè Non dico niente Non dico niente Non dico niente Perché altrimenti forse mi banno C'è un prossimo video Della WWE Ciao Ragazzi Etate i vostri giudizi Etate il vostro